Più che le parole sono le immagini a descrivere i danni delle ultime mareggiate che si sono abbattute sulla costa abruzzese nelle ultime ore. Qui siamo a Casalbordino, dove il mare è praticamente arrivato agli stabilimenti, presidio di frontiera delle strade cittadine. E come sempre accade, con le ondate di maltempo il problema dell'erosione torna prepotentemente in primo piano. Per la Sib Abruzzo si tratta di un disastro annunciato che in provincia di Chieti ha colpito l'intera costa senza sconti per nessuno, come spiega il vicepresidente Alfredo Di Rito. Casalbordino è uno di quei comuni più danneggiati della costa abruzzese, tant'è che è anche capofila dello studio Ancora e degli studi che la regione sta portando avanti adesso. Lungomare Nord è praticamente azzerato, una strada comunale a rischio crollo, una pista ciclobedonale da completare che in questo caso è praticamente irrealizzabile. Su Lungomare Sud abbiamo sabbianti in acqua, sempre opere comunali a rischio e nello specifico su Lungomare Sud voglio ricordare l'avvio del cantiere e dei lavori già programmati, finanziati e progettati. Basta con queste lungaggini burocratiche, attiviamoci subito a iniziare i lavori affinché mettiamo in sicurezza quel tratto di costa. Noi come imprese le nostre attività preparatorie iniziano il primo marzo, a queste condizioni che tipo di attività preparatorie vogliamo mettere in cantiere? Abbiamo una stagione balneare ormai alle porte perché ormai siamo a gennaio inoltrato e quindi imprese a rischio apertura. Allagamenti e mareggiati hanno interessato anche il comune di Vasto dove al momento la situazione sembra essere sotto controllo anche sul fronte e alberature cadute in strada fortunatamente senza epiloghi tragici. Il sindaco Francesco Menna invita i cittadini al buonsenso evitando uscite non necessarie durante particolari condizioni di maltempo. Ci sono state purtroppo cadute rovinose di alberi, di pini in particolare, soprattutto che ha coinvolto una famiglia, una mamma con dei bambini. Fortunatamente usciti illesi da questo episodio, allora la nostra vicinanza. Su questa vicenda dei pini naturalmente io apro una riflessione. Queste piante purtroppo fanno radici orizzontali e sono molto pericolose perché all'improvviso cadono. Per cui io ritengo che vadano sostituite con altri alberi compatibili con i contesti urbani ogni pino l'impegno di tre alberi nuovi da piantare sicuramente. Strade allagate sotto passi chiusi per le intense piogge delle ultime ore anche a Fossacesia dove a preoccupare sono state soprattutto le mareggiate che hanno inondato l'area camper e spazzato via le infrastrutture della spiaggia per tutti che il Comune aveva realizzato nel 2017 per persone diversamente abili. Il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio si appella alle istituzioni. La situazione è davvero complicata soprattutto per quanto riguarda l'erosione della spiaggia. Noi abbiamo 5 chilometri di spiaggia soggetti continuamente all'erosione e abbiamo più volte segnalato alla regione. Fossacesia rientra tra quelle località che merita particolare attenzione per gli studi fatti. Mi auguro davvero che questa occasione serva a far riflettere per destinare quei finanziamenti utili ad una località che turisticamente sta conoscendo un vero e proprio successo. Non possiamo far ridurre la spiaggia perché significa avere meno disponibilità per chi decide di trascorrere un periodo più o meno lungo di vacanze nella nostra località. Le intense piogge di questa notte hanno provocato danni, allagamenti, in alcune parti l'acqua ha superato i 50 cm sulla spiaggia, l'area camper, alcune ville con le abitazioni invase dall'acqua delle onde e della pioggia.